Momenti di grande paura per una tragedia, fortunatamente, soltanto sfiorata. E' quella accaduta questa mattina a Palo del Colle, in provincia di Bari, dove una gru è improvvisamente crollata in una strada del centro cittadino, provocando il ferimento di un operaio. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 tra Piazza Diaz e Via Terlizzese, nei pressi della villa comunale. A causare il crollo dell'imponente macchinario, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il cedimento del manto stradale che non avrebbe retto il peso della gru. Una volta aperta si lavoraggine sull'asfalto, la macchina da lavoro si è ribaltata, finendo con il braccio meccanico sul fabbricato dove erano in corso degli interventi edilizi. Ad avere la peggio un operaio di 46 anni che si trovava nel cantiere, rimasto ferito ad una gamba. L'uomo è stato subito soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza in codice giallo presso l'ospedale San Paolo di Bari. Assieme ai sanitari sono arrivati sul posto anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri che hanno effettuato i primi rilevi ed avviato le indagini sull'accaduto. Al lavoro anche i tecnici comunali per risalire alle cause del cedimento stradale e valutare eventuali rischi per gli edifici circostanti. L'intera area è stata precauzionalmente chiusa al traffico per ragioni di sicurezza.